buongiorno amici benvenuti in questo nuovo video dedicato a fornei capitolo oggi siamo entrati ormai nella penultima settimana di questa stagione che vi ricordo terminerà il 2 di dicembre e la novità con conferma è che il sabato 22 dicembre alle ore 22 ci sarà l'evento con il buco nero quindi segnatevi questa data perché tornano gli eventi e io sinceramente non vedo l'ora di cosa succederà in questo evento che ci porterà nella stagione numero 5 direttamente dal 3 dicembre dunque amici tornando alle uscite di oggi dello shop giornaliero 15 novembre 2023 abbiamo il bundle ratattacco eccolo qui con la sua skin due stili versione topolino poi abbiamo attacco al cuore il backpack tutto direttamente dal capitolo 3 stagione 4 che è interattivo il piccone coda di ratto la copertura la schermata di caricamento e le motte squid eccola qua 1800 v-back per questo bundle dedicato a ratattacco poi abbiamo zadi bellissima questa mi piace un sacco direttamente dal capitolo numero 2 stagione 1 con tre stili in versione militare questa è stupenda con gli occhi rossi davvero davvero niente male per questo bundle da 1200 v-back veramente bella davvero davvero niente male poi abbiamo ecco di wind walker 800 v-back e qui abbiamo i tatuaggi che si illuminano quando apriamo i forzieri capitolo 2 stagione 7 800 v-back per questa skin davvero davvero carina veramente veramente bella poi abbiamo le due motte e infine il mietitore che è il contest di oggi perché se il video raggiunge 100 like arriviamo a 2000 iscritti quindi sceglierò tra i commenti chi commenterà con la parola mietitore questo fantastico piccone quindi mi raccomando iscrivetevi usate il codice creatore il gian yt se lo farete taggatemi su instagram trovate il link in home di youtube e vi riposterò perché se lo fate mi raccomando taggatemi quindi contest dedicato al mietitore domani escono gli incarichi della settimana numero 3 penultima settimana di questa stagione oggi e quindi siamo veramente alla fine di questa stagione che sta per volgere al termine noi ci vediamo oggi pomeriggio con la consueta mappa creativa dedicata a livellare velocemente questo pass battaglia quindi io vi auguro una buona giornata un buon game a tutti e ci vediamo più tardi con il video mappe creative vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto e vi ricordo se volete supportare il canale codice creatore il gian yt tutto attaccato e spolliciate al video se volete partecipare anche al contest mi raccomando io vi ringrazio ci vediamo più tardi ciao 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 ciao